Arbitri, Oliviero di Pesaro, brischetto di Acerreale, il crono di Lavana di Pesaro, Civitella con l'Ormax, Real Fuzz al Arzignano e che sia spettacolo quest'oggi. Sta per arrivare il fischio, pronti via si parte dunque questa importantissima partita con l'Arzignano che va a manovrare la prima palla di questa sfida per Paolino, viene però anticipato da Titon, Paolino si tuffa come Tania Cagnotto, attenzione è il contropiede qui, gol, quasi gol, ma è Marzio, lo avevo già chiamato il quasi gol. Amoroso, tiene il pallone, lo dà Salamone, Salamone con un tocchino, tocchetto, Pozzi, Pozzi si rialza, Pozzi, che Pozzi! Non è che guaglierebbe il compagno di squadra, Misel riparte a Zian con Jonathan che ha recuperato un pallone chiudendo la diagonale, Jonathan fuori di un nulla, il fischio allora si riparte, 8.23, 0-0, Jonathan il tiro fuori di poco, che salva un pallone fa ripartire il contropiede del Civitella, si ha fermato la sua volta da Jonathan, e non è un flipper, è un flipper con l'Arzignano, lo che si fa vedere con Jonathan, 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 Jonathan Mazzocchetti, Jonathan Mazzocchetti, ancora però si gioca, Vitigno Falcetta, calcia avanti, attenzione con Fabigno, il tocco e la paratola di Pozzi su Morgado e poi ripartire l'Arzignano. Oggi ospite, qui colpo di testa, bella la giocata, con ancora un grandissimo Pozzi! Altrettanto per il Civitella, che in caso di vittoria salirebbe a quota 17, metterebbe una serie ipoteca sulla salvezza il suo primo anno in Serie A, il fischio si parte dunque, Jonathan per Wenu, c'è lo spazio per salire per l'Arzignano, Wenu, 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 il tiro, la risposta di Mazzocchetti. Mazzocchetti, il suo baricentro e costringe sulla difensiva l'Arzignano che cerca di andare su, non c'è il fallo, non viene fischiato, bisogna rialzarci, ancora il gol di Fabinho, il gol di Fabinho, le proteste dell'Arzignano, intanto il gol di Fabinho, chissà se c'era il fallo, non lo sapremo mai. Morga per Motta, Motta fermato, allora un 3 contro 2 per la formazione di Saverio Palusci, che va a trovare il gol del raddoppio, e qui una dormita ancora dell'Arzignano, con Morgado, il gol del raddoppio con Morgado, sensazione di prima. Mazzocchetti, strepitoso Mazzocchetti, strepitoso Mazzocchetti, mamma mia Mazzocchetti, che strepitoso Mazzocchetti, Mazzocchetti. Arzignano vivissimo, ma attenzione al Civitella che vuole colpire e affondare, sbaglia Coco Schmidt, Jonathan, Jonathan per 3, verso Moroso, Moroso il tiro, la risposta ancora Moroso, fermato, ed Orvat va a mettere qui la fine della partita con il Civitella che si porta a casa, tre punti pesantissimi per mettere una serie ipoteca ad una salvezza.